Ben tornati in diretta a Ombre Festival, sempre una produzione Subway Web Radio con Edition. Siamo alla terza giornata del Festival Ombre, qua in diretta da Piazza del Comune di Viterbo. Siamo in compagnia di Tiberio Bentivoglio. Tiberio Bentivoglio è il simbolo delle persone che non si sono volute piegare, si sono ribellate a quello che è il racket dell'andrangheta, di tutte le mafie. Quest'anno è proprio il 25esimo anniversario, oltre della strage del giudice Borsellino, anche della volta in cui tutto ebbe inizio. Sì, stranamente oggi, proprio oggi fa 25 anni, dal primo evento doloso, il 10 luglio del 92. È stato terribile trovarmi in quelle condizioni, in quella situazione, sia io che la mia famiglia. È stato l'evento forse meno importante quanto riguarda il danno economico, ma il più significativo in quanto è stata la prima volta che l'andrangheta entra nel mio negozio e distrugge, ruba e fa quello che non dovrebbe fare. Noi siamo una web radio, quindi parliamo spesso anche una generazione che è nata molti anni dopo quel periodo nero per l'Italia. Vogliamo un attimo fare un riepilogo di quello che le è successo e come ha vissuto quei momenti e quello che l'ha portata poi oggi qua a presentare il libro colpito. Non pagare il pizzo non è sufficiente, cioè rifiutarsi di non dare soldi all'andrangheta è il primo passo. Subito dopo bisogna andare in caserma, bisogna andare in procura, in questura a denunciare chi l'ha chiesto. E non è sufficiente neanche, bisogna presentarsi nelle varie udienze, nei vari processi ed essere sempre presente a indicare col dito, quando lo chiedono i magistrati, chi ha fatto questo. E bisogna ogni volta, quando si è parte offesa nel processo, costituirsi parte civile. Queste sono le quattro fasi del vero sistema che bisogna attuare per poter dare uno schiaffo a loro. Questo, non bisogna nascondersi e dire io non l'ho pagato e basta. No, bisogna continuare a collaborare con le forze dell'ordine, bisogna ad ogni insospetto andare a riferire e a costruire quell'apparato giuridico per poterle fare condannare. Collaborare con le forze dell'ordine, però, dal suo libro, insomma, tra le righe, e poi non solo, tra tutte le persone che vivono la sua stessa situazione, non sia mai la, come dire, non sia mai l'immagine di uno Stato che aiuta e al 100% diciamo, collabora e premia chi come lei si di bella. Nel senso, a volte si è sentito forse abbandonato dalle istituzioni. Non so qual è il suo pensiero, insomma, in questi anni che ha dovuto vivere in questa situazione. Se premiare significa stare accanto alla vittima, a chi ha denunciato, passi pure il termine. Ma in che senso questo premio? Noi abbiamo bisogno di uno Stato accanto, in modo concreto, non solo con il microfono in mano, con le parole. Abbiamo bisogno di uno Stato vicino che, sfruttando le leggi, bene o male quelle che ci sono, e tante altre che bisogna farne, sia pronto a rispondere ai mafiosi. Un negozio distrutto da una bomba o da un incendio non può essere ricostruito dopo 3-4 anni. L'elargizione che lo Stato per legge che è messo a disposizione non può arrivare dopo tanto tempo. La stessa legge dice 4 mesi massimo per poter essere aiutato. Io purtroppo ho avuto lo Stato accanto dopo 3-4 anni dagli eventi dolosi e ne ho avuti parecchi. Io sono all'ottavo attentato, più il tentato omicidio che ho porto alle spalle nel 2011, del 9 febbraio, quando hanno cercato di uccidermi. Per stare accanto alle vittime o comunque a chi esortare alle persone a ribellarsi al pagamento del pizzo, lei ha fondato insieme all'Associazione Libera la fondazione Reggio Libera Reggio. Quindi in che modo siete aiutate e che tipo di... non so se vuole anche raccontarci come può essere contattata e quindi in che modo potete aiutarli. Beh, Reggio Libera Reggio è nata 7 anni fa, il 20 aprile del 2010, è un'iniziativa di tanti commercianti che ci siamo messi insieme, sia vittime che non vittime, cioè anche quelli che hanno detto, ci hanno messo la faccia e il proprio nome a dire no, se verrà l'andrangheta a chiedere i soldi io non gliela darò. Siamo semplicemente poco meno di 50 imprenditori nella città che abbiamo iniziato questo percorso, non è facile, ma l'iniziativa in se stessa, i punti cruciali sono tre. L'acquisto critico, cioè convincere le persone che si ritengono civili, ma tante volte sono anche irresponsabili, ad andare a comprare in quei negozi che espongono il luogo di Reggio Libera Reggio e poi il sollecito, la spinta nostra agli altri imprenditori di smetterla di pagare il pizzo. Il terzo stato, che è quello più importante per noi e francamente non ci siamo riusciti in pieno, è quello di pretendere dalle istituzioni politiche e non l'accompagno. Siamo riusciti solo ad avere una detassazione dal comune di residenza, dalla vittima che ha denunciato, che è già un primo passo, cioè il comune, le vittime che hanno denunciato, ha applicato, ha deliberato una normativa per l'esenzione delle tasse comunali. Stiamo cercando di farlo anche a livello regionale, vediamo un po' se ci riusciamo. Un'ultima domanda per chiudere, parliamo anche del libro, insomma, Colpito, questo è il titolo che racconta la sua storia e il calvario che ha vissuto in questi 25 anni, dove ha trovato la forza e come è stato lavorare con qualcosa che non faceva parte di lei, insomma, penso scrivere un libro, non credo fosse una delle sue aspirazioni, però insomma sarà sicuramente d'aiuto e di ispirazione per molte persone. Non me lo potevo mai immaginare, né da giovane né da ragazzino, di poter scrivere un libro. Mi ha modificato molto la mia storia, mi ha aiutato moltissimo da mia moglie perché è stata sempre più determinata di me alla ribellione. Ho deciso di raccontare questa storia, è un libro denuncia, un libro che ha fatto paura, favura anche alcune case editrici che non hanno voluto pubblicarlo. L'ho fatto da me in autopubblicazione e lo sto girando per l'Italia, sono già 10.000 copie, man mano li ristampiamo. Un libro che porta alla prefazione di Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, dove Luigi leggendo il libro definisce la mia storia un calvario, ma parla di rabbia. Ed è stato l'unico ed il primo a capire la mia rabbia, perché la mia rabbia stranamente non è contro l'andrangheta che mi ha chiesto il pizzo, che mi ha messo la bomba o che mi ha sparato. La mia rabbia è verso quella società civile che è ancora irresponsabile, perché il mio negozio stava per fallire proprio per i clienti che non sono entrati più. Ecco, un commerciante che denuncia il pizzo, denuncia il racket, denuncia l'estorsione, che denuncia l'usura, sono convinto che all'indomani mattina dovrebbe avere più gente, più clienti, più fatturato. Nel mio caso non è successo, hanno avuto paura di farsi vedere accanto a me. Ringraziamo Tiberio Bentivoglio per la sua testimonianza e comprate il libro, appena vi capita, colpito. Dove lo possono trovare? Nell'associazionismo, richiesta direttamente a me oppure a Libera, in tutti i presidi di Libera c'è il libro. Perfetto, grazie mille. Prego, grazie a lei. Grazie mille. 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 Grazie.